Questo lecca-lecca è così buono? Se c'è una cosa che odio, sono i lecca-lecca! Dolce, te rimuovi me! Vieni qui! Il terremoto! Oddio, che faccio? Oh no, le mie barrette! Oh no, forza! Mi servono! Sta funzionando! Sono diventato troppo potente, concentrati! No, quello è mio! Finalmente è mio, niente lecca-lecca! Mi servono altri snack! Userò la carta igienica per chiedere aiuto! Nel barattolo e via, gli faccio vedere io! Spero tanto che mi hai messo da parte un po' di pizza! Ciao, devo lasciare questo per il mio ragazzo! Ehi, tesoro, ho quel cactus che volevi! Oh, ciao! Non male, ricorda, niente cibo o bevande! Oh, ma lo so, non si mangerà mica un cactus! È appuntito, vedi? Se sei innocua, lascialo lì! Tesoro, ha funzionato! E voglio dire, Ed, ci vediamo? Non mi fido di lei! Diamo un'occhiata da vicino! So di cactus! Assomiglia a un cactus! Queste rocce sono caramelle! Lo sapevo! Adesso faccio uno scambio veloce, ed ecco! Milleuno e due! Hai il mio cactus! Il mio cactus! Delizioso! Adesso me lo mangio! Oh! La mia lingua è piena di spine! Che dolore! Aiuto! Infermiera! Medico! Mamma! È lui che problemi ha! Come mi diverto! Sta fermo! Mi sa tanto che fa male! Oh! La mia schiena! Mi fa male tutto! Posso aiutarla? Sono qui per un amico! Oh! La gravidanza è uno strazio! Sei incinta! Pensavo fossi grassa! Non manca molto! Posso ascoltare il bambino? Wow! Starà facendo le capriole lì! Eh! Eh! Sì! E comunque io devo andare! Oh! Ma certo! E tu chi sei? Ciao! Sono così felice di vederti! Sono io! Sono travestito! Oh! Ma certo! Adesso capisco! Ho una sorpresa per te! Ta-da! Ma dai! Fighissimo! Ce ne sono ancora! Ma quanto sei carino, mio piccolo! scanner... Ah! Che sta succedendo laggiù? Veloce! Fa finta di nulla! Qualcosa non va! Oh! Oh! Che succede? E lui intendo... Lei sta andando in travaglio! Il bambino sta arrivando! Non preoccuparti! Ci penso io! Sono un medico qualificato! Tiriamo fuori quel bambino! Questa non me l'aspettavo! Ok! Respira normalmente! Proprio così! Che facciamo? Non lo so! Non guardare me! Fa finta di partorire! Va bene! Oh! Penso di sentire il bambino! Penso di vedere la... Oh! Pensavo ci fosse... Un bambino! È una bambina! Si chiama Dolce! E devo andare! Ciao! Ciao piccola! Che bel nome! Finalmente tutta sola! E questa è fondamentale! Sta per finire! Dovrò ordinarne dell'altra! Ehi! Mi serve una consegna speciale di carta igienica nella cella 4! Fatto nessun problema in arrivo! Adesso devo solo avere la sua attenzione! Perfetto! Colpito e affondato! Un rotolo di carta igienica vuoto! Mi aiuti o no? Devo pulirmi! Oh! Ma che schifo! Ehi! Serve della carta igienica nella cella 4! Presto! Sento l'odore da qui! Qualcuna ha ordinato carta igienica? Prendi! Grazie! È quella che preferisco! Mmm! Questa è la migliore carta igienica di sempre! Me ne serve ancora! Aspetta! Oh! Non avrei dovuto mangiare tutto quel curry! Oh no! È finita! Aiuto! Tieni! Prendi questa! Grazie! Mi hai salvata! Non c'è nessuno? Più, 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 più! Colpito! Il pistolero più veloce dell'Ovest! Salve! Conosci Robert, il mio amico topo? E tu da dove sbuchi? Da quant'è che non ti lavi? Sei fuori di testa e devi tagliarti quella barba! Dove l'ho messo? Ah! Non preoccuparti! Sono qui per aiutare! Vediamo con cosa stiamo lavorando! Bisogna togliere i baffi! Ehi, ci sono voluti anni per farli crescere! Non è per me, è per lui! Come vuoi, tesoro? È ora di togliere questo cespuglio, tesoro! No, mi rappresenta! E a Robert piace! Sta indietro! Non farà male! Fammi fare! Ma... Ehi, come sono liscio! Non ho finito, tesoro! Guarda, ho qualcosa per te! Ma ti costerà! Vuoi soldi, giusto? È uno scambio equo! Bibita! Non preoccuparti, Robert! Condividiamo! Sono così annoiata! Oh, lo so! Chi è il topo più carino? Vai, piccolo topo! E ora della prima fase del mio piano! Proprio sul bersaglio! Ha funzionato! Grande! Come faccio a leggere adesso? Meno male che ho questa torcia! Buu! Ehi! Ma da dove sei sbucata? Scusa, sono qui per aggiustare le luci! Finalmente! Non posso fare niente qui! Né leggere, né fare il cruciverba! Fa qualcosa! Ciao, sono qui! Ai miei occhi! Ups! Ho degli strumenti speciali per te! Prenderò questi! Ma quante cose! Sto solo facendo il mio lavoro! Devo andare adesso! Ma com'è brava nel suo lavoro! Forse dovrei divertirmi un po'! Che cos'è adesso? Un ratto! Aiuto! Dov'è? Dov'è? Ed ecco la lista dei desideri per il mio compleanno! Buon compleanno! Oh, non avresti dovuto! Sei troppo gentile! Tanti auguri a me! Perché lei è una brava ragazza! Cos'è quel trambusto? Oh, è il mio compleanno! Non vedi? Oh, buon compleanno! Cosa dovrei prenderle? Lo so! Pronto? Se fa subito, è un'occasione speciale! Wow, che velocità! Sei il massaggiatore? Guarda cosa so fare! Vedi, conosco tutte le mosse! Oh, sei così professionale! Potresti farmi un massaggino e il mio collo è tutto rigido! Accidenti, mi ci voleva proprio! Oh sì, qui! Che sta succedendo? Non riesco a muovermi! Fermati! Arrotolare la carta igienica, il peggior gioco di compleanno di sempre! Sono io! Ti ho fatto un regalo per il compleanno! Intanto ti servono questi! Gelatina di orsetti! Blu, il mio preferito! Delizioso, grazie! Adesso però devo andarmene! Ciao! Lui rimarrà così per un po'! Ehi, show! Non è un nido! Levati! Non provare a fare il furbo! Ma che male! Ho la pelle sensibile! È ora di fuggire! È più difficile di quanto sembri nei film! Ci sono quasi! Non vedo l'ora di uscire di qui! Ma devo fare un pisolino adesso! Sono libero! Cos'è tutto quel rumore? Qualcuno sta fuggendo! Non così veloce, giovanotto! Non mi prenderai guardia e vai dentro! Pronto, manutentori! Mi serve aiuto! Ripara le svarre di questa cella e fai piano, devo riposarmi! Ho tutto l'occorrente proprio qui! Nessuna cella può fermarmi! I ragazzi di oggi pensano di sapere tutto! Aspetta, sento l'odore di dolcetti! E sa di dolce! È dolce! Come vorrei avere i denti! Ehi, pensavo volessi fare una pausa! Vuoi giocare? Sarà divertente! Non ho tutto tranne quello! Pensi di poter intrufolare qualche snack in prigione? Facci sapere come lo faresti nei commenti qui sotto! Ricorda di condividere il video con i tuoi amici! E non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo! Ciao! 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 Ciao!